E' cominciato ieri il ritiro dello Sporting Ponte Cagnano in vista del campionato di promozione, il primo della breve storia della squadra picentina. La Rosa si è ritrovata agli ordini del neo allenatore Gianpaolo Parisi, ex calciatore di Salernitana Avellino e Foggia. Noi siamo una neo promossa, quindi sicuramente non abbiamo l'assilo di vincere, però giocheremo partita per partita per poter provare a fare qualcosa di importante. Giudizio sulla Rosa? Per me è ottima perché abbiamo tenuto lo zoccolo duro dell'anno scorso, abbiamo preso due ragazzi nuovi, molti under importanti e secondo me possiamo fare benissimo. Si proverà a fare ancora mercato, ci sarà qualche nuovo innesto oppure vi fermate qui? Allora lasciamo il tempo a Mister Parisi di anche osservare la Rosa, perché comunque deve valutare tutti i nostri calciatori e poi comunque faremo qualcosa a prescindere per migliorarla o per affinare qualcosa. Che campionato sarà? È un campionato difficile? Si è fatta un'idea anche delle altre squadre che partecipano al vostro Girona? Sì, io penso che il campionato di promozione non si differenzi tanto dal campionato di prima. Ci sono gli under che fanno la differenza, però non penso sia un girone così difficile come dicono gli addetti al lavoro. Cioè nel senso non vedo un'ammazza campionato come potuto essere per altri anni. Quindi secondo me se riusciamo a partire bene, con calma e senza nessuna fretta, possiamo fare bene anche noi e possiamo anche togliere qualche soddisfazione.